Si racconta che anche Ponzio Pilato, mentre si recava in Gallia la testa delle sue truppe, l'abbia degustata durante una sosta. È però Pantaleone da Confidenza, medico della corte Sabaudia, a definirla Vallis Auguste Caseus, ovvero formaggio della Valle Augusta, l'odierna Val d'Aosta. La fontina DOP è prodotta con l'atto intero crudo, ottenuto da bovine di razza valdostana, pezzata nera, pezzata rossa e castana. E adesso andiamo a degustare! La crosta della fontina evidenzia varie tonalità di marrone. La pasta si caratterizza per il classico colore giallo paglierino, mentre all'olfatto evidenzia sentori complessi di latte cotto e spezzi, che si differenziano a seconda dei pascoli di provenienza. All'assaggio la consistenza è morbida, elastica e il sapore si contraddistingue per la tipica tendenza dolce, insieme a una lieve piacevole nota amaricante. Ve ne suggerisco l'utilizzo in abbinamento a diverse preparazioni, come ad esempio un involtino di tacchino con spinaci. Ma a noi piace consigliarvene il consumo anche come protagonista, unica ed assoluta, del nostro piatto. Grazie a tutti!